Ciao a tutte, sono Margherita Pirola, personal trainer e consulente fitness al femminile. È stato constatato dalle ultime evidenze scientifiche che almeno una donna su due ha avuto un episodio di cistite durante la propria vita ed è stato altresì dimostrato come un integratore contenente mirtillo rosso si è in grado di eliminare una delle sue cause principali. L'infezione da Escherichia coli, il batterio responsabile per l'85% delle infezioni alle vie urinarie. La soluzione a questo è cisti, un integratore a base di mirtillo rosso e principi attivi quali il dimannosio, una formula completa e rapidamente efficace con l'assunzione di una bustina una volta al giorno. Per chi soffre di cistite in maniera recidiva ne consiglio la assunzione un mese sì e un mese no a mesi alterni. In fase acuta è possibile assumerlo in contemporanea all'uso dell'antibiotico. Se ci si accorge dell'insorgenza dell'infezione assumerlo come trattamento d'urto due bustine al giorno. Consiglio alle donne di praticare un esercizio fisico costante e controllato, facendo attenzione a indossare un abbigliamento prevalentemente di cotone, mantenendosi asciutte ed evitando l'eccessivo sudore. Per ulteriori dettagli consultate il sito forplusnutrition.com. Un saluto a tutte!